Non ce l'aspettavamo, quindi è passato il messaggio di rinnovamento, è passato il messaggio di una squadra compatta che ha voluto a tutti i costi rinnovare per dare risposta agli elettori perché lo hanno chiesto e credo che ci sia stata grande lungimiranza da parte del centro-destra, delle liste civiche e poi soprattutto abbiamo presentato un programma coerente, spiegandolo come si attua senza fare il libro dei sogni e questo messaggio credo che sia penetrato nel cuore dei catanzaresi e poi mi ha anche aiutato il fatto di aver avuto sempre questo bellissimo rapporto con i miei concittadini. Grazie.